ninfea asmr ho acquistato questo numero che è il numero di settimana scorsa del 2 novembre oggi è mercoledì mattina e sto registrando per questa sera perché purtroppo non ho avuto molto tempo per portarmi avanti con i video ma eccoci qui e io direi che questa volta ascolto i vostri consigli insomma i vostri commenti e andremo a provare un gioco diverso voglio eccolo qua voglio fare le cornici concentriche è un gioco che mi piace molto e vi spiego subito come funziona ah giusto è cambiato è cambiata l'app non mi ricordavo da un bel po' che non faccio la settimana enigmistica io prendo il blu per scrivere ok questo gioco funziona così praticamente le definizioni A sono le definizioni orizzontali mentre le definizioni B che vedete qua sotto sono le definizioni appunto concentriche e infatti abbiamo definizioni della prima cornicia che è la cornicia più esterna ma noi non sappiamo dove iniziano quindi dobbiamo prima fare un po' di definizioni orizzontali per poi passare a quelle concentriche quindi uno l'ultima opera di Puccini non lo so però si sfrega sulla bruschetta aglio credo proprio che sia aglio poi due solo po' che diventano dibe boh attrici starletto cantanti non lo so il Sebastian Asso della Formula 1 dovrebbe essere Peter credo non sono un'esperta però sembra di aver sentito questo nome quindi proviamo credo spero sia con due T poi poi tre i colpi di luce nel millechiome Mesh però non so se si scrive Mesh Domege o Meges però in teoria sono plurali quella dopo è nel caso che nel caso che qualora oppure si quindi qua allora qualora se fosse Mesh Poi proviamo di solito non sono definizioni difficilissime quindi cioè rispetto al per dire parte zaghi non vengono fuori robe estremamente astruse quindi ho meno paura a scrivere quattro la glorificazione del trionfatore non lo so una minaccia per i denti potrebbe essere sia tartaro che carie forse carie però questo non lo so cinque iberici nel medioevo ispanici ispanici poi poi carattere usato nei computer ecco può essere l'Arial può essere ah ma forse carattere non lo so scusate per i rumori è breggiato quello di acacia miele 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 qua intanto potremmo cominciare a vedere se vediamo qualche parola nelle collegi concentriche ad esempio qua vedo uno squalo nella 3 vediamo un po' allora la cosiddetta città bianca della Puglia dovrebbe essere o o o tranto non lo so penso però periodi memorabili viene spesso accompagnato dal bici pilota e infatti è squalo e infatti quando trovo una parola delle cornici concentriche la sottolineo in questo modo è venuta un po' male ma raga non riesco a fare una linea dritta vabbè è andata così e quindi quella prima di squalo che è periodi memorabili epoche vedete che prima di squalo cioè epoche epoche e dopo squalo la definizione è vediamo un po' dare nuovo assetto non lo so però ad esempio anche nella condice 2 abbiamo questo vette che probabilmente possiamo trovare parenti per lo più anziane scienziati di fama non seguono gli scritti che orali fantasmi di serie di teatro c'è simpatie la pazza di hollywood nomi quindi no pette eh pette eh no non mi viene mentre nella cornice 1 abbiamo qui rimane intrappolato pinocchio palena ah 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 oriana qua abbiamo una farlaci stampa solito i colori le gel dell'ultimo anno maturando però è ancora troppo vuoto andiamo avanti con quelle orizzontali quindi eh periodo d'esami universitari vabbè la sessione 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 esami poi sette con rompere con denaro o non mi viene senza lettere poi le tute blu delle fabbriche perché sarebbe venuto tipo salopette ma no non è non lo so Otto i Walgare Texas in tv ranger non è Walgare Texas ranger credo di si questo non l'ho mai visto però ho sentito questo nome poi da lezioni a tutti non lo so però abbiamo poi l'ultimo due spagnoli tas 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 nove il tom di Top Gun vabbè cruise che poi non si dice cruise ma si dice cruise però tutti lo chiamano cruise vabbè fa copia con quale tale come vedete appunto le definizioni sono un pochino più semplici però è un pochino più contorto tutto il meccanismo più che basso avrei detto tipo nano ma non ci sta 10 la nilde che è presidente della camera dei deputati oddio lo so ma non lo so nel senso che dovrei saperlo ma non mi viene il forum andrecista di Amadeus oddio anche questo non lo so che vergogna è la nice scrittrice statunitense niente sta vera 10 un dramma meno male che ho detto che sono più facile poi rende ingegnoso l'uomo l'intelletto non lo so non lo so però fioriscono su molti davanzali credo che siano i gerani quindi gerani portate da qua adesso vediamo le orizzontali per quanto riusciamo poi vediamo un po' se nelle concentriche c'è qualche lettera in più che ci aiuta vi regno lo scia vorrei dire una cavolata mi verrebbe persa ma non sono sicura quindi lasciamolo lì tassa immobiliare tari no oddio imu no la tari è quella dei rifiuti raga cioè ok imu dovrebbe essere però vabbè la 12 sicuramente l'ultima il john dei beatles è lennon ma vorrei farla fine perché no la tassa immobiliare è l'imu sono abbastanza sicura che prima era ig imu per questo non è perso quindi non l'abbiamo scritta un bianco fiore a imbuto campanula non mi viene però allora adesso la situazione è un po' più chiara nel senso che qui abbiamo una cornice 1 2 3 4 5 5 quasi completa quindi andiamo a vedere le definizioni escursioni sulla neve con le racchette ai piedi e poi liberi da pensieri o preoccupazioni quindi la tese tese ah ok sereni e liberi da pensieri e preoccupazioni e questa è la già sporata già sporata ok quindi come vedete questo ci aiuta poi anche nelle orizzontali perché qua ad esempio è comparso una caratter usata nei computer è diventata il proprio probabile che sia ariel quasi quasi lo scrivo perché cioè non vedo mi confonde solo che abbia messo carattere in un font però vabbè poi nella cornice 2 abbiamo abbiamo delle lettere in più ad esempio nonne potrebbe essere parenti per lo più anziane direi che non abbiamo dubbi e la seconda i scienziati di fama luminari ok poi vediamo seguono gli scritti ok abbiamo detto prima gli orali eccolo qua e poi fantasmi spettri sarà spettri poi desiderio di attirare l'attenzione e la simpatia civetteria e l'ultima vediamo un po' la whats di hollywood naomi quindi vedete una volta che si fa un po' di parte orizzontale è anche più facile trovare le cornici concentriche bene torniamo a vedere le orizzontali anzi ma facciamo quella più interna vediamo se c'è chi è prudente non vuole minimamente averne s e e fres fres chi è prudente non vuole rischi oh cavolo non vuole minimamente vero non lo so però torniamo alla 12 che è quasi completa cos'era biragnolo sha liran c'è che poi l'iran è la vecchia persia quindi ok ci siamo poi vediamo la cornice 1 che qua c'è tipo grimi grimi gromi qui però c'è questo segue il chiri nelle litanie e lei son potrebbe essere qui e lei son quindi se lo mettiamo qui quello dopo lo è la panna andata male in acidita c scusate se scrivo un po' male ma come al solito sono un po' prudesa in avanti infatti la 13 lo è una data decisiva potrebbe essere fatidica in effetti ci sta qua in acidita poi la coreana autrice vabbè fallaci fallaci bene ah il fiore era la galla non mi sarebbe mai venuto ok poi la stampa ha soli due colori big 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 bigromia sicuramente bigro qualcosa avrei detto più cromatica però queste sono le mesh per forza perchè hanno già due incroci no non lo so però perchè mi sembra un po' strano che sia che vuoi se ranger che vuoi se ranger ne lo so lasciamolo per un'attima da parte poi andiamo a vedere quello che c'era prima di e lei su rimane tranquillato e pinocchio palina ah no non è palina raga tagliola la tagliola oddio cioè io subito palena allora è quella che c'è ancora prima un liceale dell'ultimo anno maturando questo non c'è dubbio ah è l'ultima opera di Buccini la Turandò ok ci vediamo poi una minaccia per i denti ufficialmente è la carie perché non è il tartaro il quadro la glorificazione del trionfatore questo è proprio non mi viene spoloma apologia può essere apologia se questa fosse bigromia in effetti è bigromia proviamo se fosse apologia qui avremmo il lardo vediamo la cosa il codice delle buone maniere buon don non lo so aspettate c'è anche un termine italiano che però non mi viene il codice delle buone maniere non mi viene lo sono i killer seriali vi predico a San Paolo e poi si superano eccedendo vabbè quelli sono i limiti credo si superano eccedendo e vi predico a San Paolo ragazzi però intanto ho visto che le tute blu delle fabbriche sono gli operai io l'avevo inteso letterale e poi questo dopo squalo riordinare credo sia come che era la definizione dare nuovo assetto riordinare e quella dopo mette fine al round il gong sul ring e quella dopo ancora bisogna tornare l'inizio la cosiddetta città bianca della Puglia osturi ok che cosa che avevo detto prima non mi ricordo ma questa sette con rompere con denaro oddio oliare non è che sia proprio accusatissimo comunque poi qua dieci proprio sono sono in altissimo mare è questa cornice qui la quattro che è un disastro veramente il codice delle buone maniere gal 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 ecco il termine che non mi veniva infatti quando ha un po' diciamo apoteosi infatti qua ecco dice lo so nei sigari non tutti non tutti però vabbè e dopo 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 li predico a San Paolo e e e e non lo so le cose purtroppo religiose sono un disastro si superano eccedendo allora qua sicuramente i limiti limiti quindi qua la dieci la nilde che presenta camera di amputati iotti il forman regista di amadeus raga cioè che figura vediamo se riesco almeno a fare l'auto da lezioni a tutti caspita lezioni a tutti no io non posso fermarmi qui che mancano così poche lettere cioè non esiste vediamo l'ultima casella l'ultima condizione chi è prudente non vuole minimamente averne io avrei detto rischi sorprese 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 oddio ok sorprese perché mi ha sottolineato questa cosa ho fatto ok sorprese quindi rendere da lezioni a tutti il prof il prof e qua mi manca solo San Paolo dove predica a Efesù può essere se è Efesù qua abbiamo Milo e Snin no Snin non mi piace non mi piace raga lascio queste due caselle vuote però il resto l'abbiamo completato tutto adesso visto che siamo molto vicini alla mezz'ora stop e poi continuiamo a stare un pochino insieme facendo il gioco delle differenze quindi stop e riprendiamo subito rieccoci qui a questo punto io vado 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 al gioco delle differenze magari ci sono anche giochi più carini eh di quello delle differenze non so se c'è il corvo parlante no però mi sembra che l'altra volta avessimo turnicato l'ipod eccolo qua per ingrandire il disegno ok vediamo se riesco a metterlo bene scelgo un pennarellino e partiamo spero vediate bene su modo il più possibile ecco qua molto carina la nuova versione della settimana di acquistica io la preferisco bene io già vedo qua il vaso che è squadrato e questo è tondo poi la tracolla della borsettina il logo del negozio gli stivali che qua sono separati e li sono uniti lo spacco della giacca siamo a 5 la lettera del cartone 6 il giuffo del tizio 7 poi il verso dell'erogatore 8 la maglietta della tizia 9 la croce della farmacia 10 il prezzo qui 11 poi 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 la lunghezza del cappotto 12 la forma della borsa 13 l'inclinazione della mano del tipo 14 la base del computer 15 la foglia della palma 16 raga oggi sono un treno adesso l'ho detto ne troverò più mezza no l'angolino della mobile ho perso il conto 3 6 9 10 1 2 3 4 5 6 7 ce ne mancano 3 3 3 3 chiediamo un po' tutte le volte che dico sto andando bene poi passo troppo niente no non è vero adesso mi impegno ce ne mancano 3 dai non posso fermarmi in alcun modo ho un po' ste medicine qua quelle qua sopra ah ok queste che sono un po' più unite quelle da più separate poi 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 vediamo ne mancano 2 queste flaconcini che sono un po' più alti e quelli più bassi ne manca una 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 e quando ne manca una è la tragedia perché non crede di essere arrivato alla fine e poi non la vede mai più almeno in video perché poi ogni volta che sta ah e invece eccola qui l'espositore che ha la parte più alta qua quindi ci sono tutte 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 13 15 16 17 17 16 19 19 19 20 21 22 23 23 24 23 22 23 24 24 25 e questo in realtà non lo amo molto, però facciamolo, praticamente dobbiamo trovare le stesse forme da una parte e dall'altra, ad esempio questo cerchio c'è anche di qua, questo carice di vino c'è anche di qua come manico del cacciapite, poi, 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 questa cintura c'è anche di qua, siamo a 3 nel pianturale 7, vediamo, diciamo che il trucco è guardare gli oggetti, diciamo, un po' separati, infatti, vedete, c'è questo che è un po' separato e lo ritroviamo anche di qua, ne mancano altre, tipo qui altri oggetti un po' separati, c'è questo cappuccio che dovremmo riuscire a trovare anche di qua, però non lo vedo, ma in compenso, questa collana l'ho appena vista qua, ecco la cosa, poi, 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 e un altro trucco è guardare quelli con meno elementi per cercare di trovarli dall'altra parte, e ce ne mancano due, 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 allora, 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 questa A, la ritroviamo qua, possono essere anche linee, e ce ne manca uno, qui sto vedendo ad esempio che di separato ma secondo me è questo cosino però ah eccolo è la bocca del tizio ok il confronto non è tra i miei preferiti ma vabbè era giusto per fare un po' di whispering ulteriore insieme e niente carini infatti torniamo all'inizio io spero davvero che il video vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia vi chiedete spesso in tanti per la settimana enicbistica ma come sapete io ne faccio una più o meno ogni mese e mezzo quindi non voglio che diventi un format eccessivamente presente sul canale perché ho paura che possa stancare però allo stesso tempo lo riporto da sempre con estremo piacere io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo prestissimo al prossimo 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 video buonanotte 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 non mette a fuoco ttu 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 tttu ttu